ciao ho preso il nuovo mini album degli uptention in entrambe le versioni questa è quella gold e questa è quella silver allora iniziamo dalla gold ok tu hai davanti questo è il retro queste sono le canzoni ok oh 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 buoni sta benissimo il capelli di storo oh il sono oh andiamo a Ksiao che carino oh pami Ksiao 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 metti a poco Thank you, Gin Ksiao Ksiao She's not going to find me She's not going to find me Vitto Ma lui gli fa sempre i capelli di sto colore Praticamente Ah, ma, sa qui Ma, ma, aiut Ok 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 Sto outfit è orrendo, scusate Cioè, è orrendo E che tale Ma sì Mezzi nudi Qualcuno vuoi che sia Special thanks Ah, tanti cuorecini Le lyrics Ok E ci prendiamo E il Trill Ah, qui Questa è la gold Passiamo al silver Davanti Questo è il retro Sono le canzoni Questa è il retro Questa è il retro ammazza anche qui si hanno ringraziato i pantaloni di pelle ecca tale, uèi non ti riesco a fare usci 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 ufff oddio come sapi uèi patatino ok adesso lo vediamo ora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.